Da oggi i piccoli pazienti dell'annunziata di Cosenza andranno in sala operatoria in autogiocattolo e l'iniziativa promossa dal direttore dell'unità operativa di chirurgia pediatrica che si inserisce in un più ampio progetto di umanizzazione delle cure, soprattutto in caso di piccoli pazienti un'attenzione ai bisogni emotivi, affettivi e sociali dei bambini ricoverati con un approccio ludico anche nella relazione bambino-medico che ha effetti importanti nei processi di cure e nella gestione del dolore un modo nuovo per curare giocando che apre ad una filosofia nuova di vedere la sanità alle nostre latitudini magari iniziando proprio dai più piccoli